0 2 per chi chiama la fuori milano 0 2 per chi chiama la fuori milano a empoli 0 inter 2 ciao buonasera fratelli nero azzurri e non e non se ne possono andare anche a pulire le spiagge con lo spazzolino da denti bella lì buona vittoria grandissima vittoria perché perché abbiamo scacciato la paura abbiamo scacciato la paura ragazzi sì perché all'inizio avevamo ancora i postumi dello scippo che ci hanno fatto domenica perché domenica ci hanno scippato una partita ma ce l'hanno scippata io dopo appena appena finita la partita ho fatto il video e dove ho detto poi vi dirò guarderò ecco è meglio che non guardavo è un po di paura è rimasta nella partita di oggi dello scippo di domenica non della prestazione perché domenica doveva essere una prestazione importante sotto dei punti di vista dello squilibrio ne abbiamo già parlato tante volte oggi invece doveva doveva essere una partita da vincere facile non è stato facilissimo però abbiamo vinto bene abbiamo vinto bene perché abbiamo scacciato la paura di quei dieci minuti del primo tempo dove è superman d'ambrosio superman d'ambrosio ha prima salvato e poi portato a vantaggio la nostra inter sì perché io ci metterei anche andanovic si è fatto trovare sempre pronto anche se non è che hanno tirato chissà quanto però ci sono stati quei dieci minuti lì che ci hanno messo in difficoltà perché ci hanno messo in difficoltà perché abbiamo approcciato male no ci hanno messo in difficoltà perché chiaramente un po di paura ce l'avevamo però la paura poi è passata dopo il gol di d'ambrosio siamo saliti in cattedra ci siamo stati solo noi questa è una vittoria molto importante perché perché comunque la consapevolezza ce la dà questa vittoria non di essere più forti dell'empoli perché ci mancarebbe altro però comunque di avere delle rotazioni che ci possono far vincere leggevolmente anche queste partite questa è la consapevolezza un'altra consapevolezza è data dal fatto che quest'inter qua se la giocherà fino all'ultima giornata che quest'inter qua non solo ne ha di meno di quelle che li stanno davanti ma ne ha di più due punti sono scippati e quindi questo meno 7 virtualmente un meno 5 perché ripeto ci hanno scippato la partita precedente però comunque san giovan famingen gan e io già ero felicissimo e strago durioso e dalla sconfitta delle strisce pedonali maledette schifose è ok e felicissimo per la mia inter per la nostra inter e abbiamo avuto una 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 turnazione nel senso che se rivisto spider man d'ambrosio al posto di scrignar è un turnover quindi dovrà in mezzo terzo di sinistra bastoncino nostro a destra anche qua io avrei fatto giocare subito danfres giocherà contro l'udinese probabilmente perché ha giocato darmian a sinistra di marco un giocatore che io l'anno scorso non so quanti video ho fatto e quante live ho fatto dove dicevo cosa aspettiamo a richiamare di marco perché di marco si merita l'inter sì signori di marco si merita l'inter telly 0 2 secondo gol di di marco non c'è niente da fare si merita tutto questo ragazzo qua questo un cuore nero azzurro che gioca anche alla grande pallone ha due piedi fantastici nel primo tempo ha tirato un terra aria incredibile deviato da un ottimo vicario che è un grandissimo portiere questo aveva ragione il mio amico cartal che per primo ha detto attenzione che nel perugio c'è un grande portiere vicario ci avevi ragione amico mio avevi ragione perché perché se non ci fosse stato quel portiere lì questa partita qua non finiva col prefisso di milano ma finiva col prefisso di milano al quadrato come minimo come minimo ok veniamo al centrocampo il piastra oggi devo dire che gagliardini aveva anche segnato poi gli hanno annullato gagliardini ha fatto suo oggi non posso dire niente mi posso dire bravo brozovic nel primo tempo ragazzi allora io sono molto felice quindi sto un attimino scherzando nel raccontarvi quello che ho visto io dalla partita però io ho visto una fase dove noi avevamo ancora i postumi dello scippo dell'altro giorno e brozovic era un attimino spento poi brozovic e acceso al motore e tutta l'intera ha girato alla grande quindi società rinnovamo rinnoviamo subito questo ragazzo qua a vita rinnoviamo brozovic a vita a vita a vita ha iniziato a girare lui e noi abbiamo vinto facile facile molto semplice barellino barellino ragazzi non lo so cioè io penso che sia la valutazione più facile per chi deve andare a fare le pagelle sui giornali perché parti da una base di sette poi gli aggiungi i mezzi punti gli aggiungi magari una valutazione in più in più e tutto quanto perché barellino ormai è ovunque solita grandissima partita ricordiamo che l'empole ha giocato in 10 perché perché ricci non sapeva più come fare per fermarlo e ha tentato da zopparlo ecco grazie a digli è andata male però barellino giocatore giocatore fondamentale giocatore giocatore ormai ha dei livelli importantissimi uno dei migliori centrocampisti d'europa alla faccia di tutti quei simpaticoni e che continuano a rompere i coglioni a barella chi rompe i coglioni a barella di calcio non sa niente e mi dispiace a fare polemiche anche quando vinciamo però bastano se ne può più barella veramente massimo rispetto veramente massimo rispetto giocatore fondamentale poi veniamo alle punte perché ci presentiamo con sanchez e lautaro tutte e due senza gol però tutte e due con due assist allora nino maraviglia ha fatto una bella partita si è anche un po arrabbiato quando l'hanno sostituito ha fatto un assist molto importante e comunque si è dannato l'anima due piedi ottimi troverà spazio deve imparare a lavare i anni a casa sua perché a giocare a pallone dio gli ha dato questa dote quindi nessuno può dire niente sulle sue qualità e chi dice che c'è un ex giocatore se si riferisce al fatto che ha problemi fisici ok per il resto veramente che guardi l'ipica perché questo è uno che gioca ancora molto bene a pallone lautaro gli manca al gol a questo ragazzo manca al gol come il pane oggi non è arrivato però è arrivato una prestazione comunque buona lautaro deve stare tranquillo perché perché i gol li teniamo è per per quando serviranno ancora di più di adesso i gol servono sempre però più andiamo avanti nella stagione più si fa tutto più importante questa è la mia disanima di una partita che sembrerebbe è uno che non l'ha vista diceva beh dai l'inter ha vinto agevolmente abbiamo vinto agevolmente la quando si è acceso brazzo però abbiamo vinto agevolmente perché comunque i ragazzi mentalmente mi hanno dato comunque moduli pensare che se siano sbloccati abbiano eliminato un po di paure giocavamo contro l'empoli possono dire dei trattori ma cosa vi esaltate per una vittoria contro l'empoli vittoria che è arrivata bene senza sbilanciamenti perché io non ho visto questi sbilanciamenti questa squadra sta crescendo e sono cazzi per tutti segnatevi il minuto del video segnatevi il mio nome cognome segnatevi la data di oggi oggi secondo me è nata una grande inter e secondo me è una grande inter è nata nello scippo dell'altro giorno attenzione per me non mi sbaglio ragazzi io vi saluto continuate con le iscrizioni grazie mille a tutti se vi è piaciuto il il video pollicione ok se non vi è piaciuto mandatemi una pernacchia di milano è il simbolo regale il biscione dell'internazionale vabbè veri bene a tutti l'inter non solo c'è ma l'inter sta crescendo e quindi stiamo veramente sereni perché ce la giochiamo fino all'ultima giornata e ci toglieremo grandissime soddisfazioni anche quest'anno un bacio a tutti veri bene a tutti forza inter